Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video di Eurotrack Simulator 2, io sono Maulo941 e oggi ci rimettiamo alla guida del camion che qualcuno, che pazzo, ci darà per portare della merce non sapendo che noi siamo anche in grado di distruggerlo completamente. Certe volte riusciamo anche a portarlo sano e salvo a casa, ma la maggior parte delle volte abbiamo preso autovelox, abbiamo preso multe, abbiamo preso di tutto, proprio qualsiasi cosa, piccioni, conigli, tutte cose abbiamo preso. Quindi, coraggio a chi ci dà un camion da guidare. Detto questo, prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maulo941 sia sul link, che cos'è il link? Non lo so. Sia su Facebook che su Instagram e se volete supportare il canale nelle piccole donazioni lo potete fare tramite Paypal. Comunque, tutto l'ambra d'anne per fare questo lo trovate nel link in descrizione al video. Detto questo, non perdiamo tempo e partiamo, raga! Ok ragazzoli, allora noi l'ultima volta siamo arrivati a Zurigo, Zurigo, Zurigo. I lavori che possiamo prendere per continuare a salire sono, verso l'alto, sono Zurigo-Strasburgo, penso. Ok, in Francia andiamo a sinistra, 215 km. Zurigo-Strasburgo, 207 km, siamo sempre in Francia, ok. Oppure Zurigo-Ginevra, ma torniamo indietro non va bene. Zurigo-Stuttgart, in Germania. E sono 194 km. Oppure Zurigo-Bern, no, torniamo indietro. Allora ragazzuoli, io farei questo Zurigo-Strasburgo, mi sa che ci allarghiamo troppo, perché noi oramai dobbiamo completamente attraversare la Germania, raga. Quindi andiamo a Stuttgart, o come si pronuncia, se qualcuno sta alla pronuncia giusto me lo dica. Ci portiamo un serbatoio da 11 tonnellate, va bene così. Accettiamo il lavoro e andiamo, raga. La Germania ci aspetta. Oh no, raga, siamo di nuovo su un sub, ma porca miseria. L'altra volta era lentissimo il sub che ci hanno dato, speriamo che questo sia un poco meglio. Oh, riesco a mettere la faccia fuori dal vetro. Che cosa carina. Guarda, sono fuori, sono dentro, sono fuori, sono dentro, sono fuori, sono dentro. Vabbè, lasciamo perdere, accendiamo il nostro bisonte e cerchiamo di capire come uscire da questo parcheggio. Allora, di lì mi sembra che da quello che vedo dalla minimap è tutto chiuso, quindi giriamo da questa parte senza fare grossi danni. Gira, 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 zio! Mamma che siamo passati vicino a quelle barriere. Ok, sì sì, abbiamo proprio un serbatoio, ma siamo molto leggeri, raga. Lo sento molto leggero il camion. Mi sa che deve essere vuoto sto serbatoio perché il camion è proprio leggerissimo. Prende velocità facilmente, dobbiamo stare attenti a questa cosa, dobbiamo stare attenti a questa cosa. Allora, noi dobbiamo andare a destra, salve. Di qua ci sta nessuno, no. Per ora facciamo quelli bravi, raga, quelli che rispettano le regole, quelli... No, 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 largati! Ecco, lo sapevo, abbiamo preso l'ultimo pezzo del cancello, praticamente, ma parca di una paletta ambriaca. Ok. Ci fermiamo un po' così, siamo parcheggiati, proprio invadiamo tutta la corsia, però va bene. Noi siamo così, raga, ho tutto o niente, non abbiamo vie di mezzo. Lo famo scattare sto semaforo, ok, è diventata lancione, quindi possiamo partire. Dobbiamo andare a sinistra, ok. Germania, stiamo arrivando, abbi paura di noi, è verde, lo devo prendere, lo devo prendere sto semaforo verde, raga. Non ho più precedenza, ma il semaforo è verde, quindi mi posso lanciare come un pazzo. Riusciamo a fare la curva senza fare danno? Mamma che ci siamo passati vicini, raga. Questo è il rosso, quindi qua è il rosso, dobbiamo fermarci. Noi ci fermiamo sempre a metà corsia, così, come se fossimo indecisi di andare a sinistra o a destra. Dobbiamo andare a destra, lo so perfettamente, però noi invadiamo tutte le corsie, raga. Siamo dei uomini imponenti che invadono qualsiasi cosa. Ok, riuscirà a scattare questo semaforo se non vediamo poi. È arancione, ok, ormai ho capito che i semafori funzionano in maniera diversa rispetto all'Italia, ok. L'arancione vuol dire che ti sta scattando il verde, in Italia l'arancione vuol dire che sta per scattare il rosso. Dico, se uno queste cose non ci fa caso, dico, si ammazza nel tempo di tre secondi, praticamente, arrivato in Svizzera. Però va bene, ok. Ok, signori miei, stiamo, se non sbaglio, uscendo dalla Svizzera. Se non sbaglio già siamo forse in superstrada, autostrada, non lo so. Di sicuro il limite è di 50 km ora e noi stiamo andando a 80. Va bene, siamo sprezzanti del pericolo, raga. Vin Diesel ci può fare un balletto acrobatico, praticamente, per non dire altro di più volgare, quindi va bene così. Ok, raga, io per ora devo andare sempre dritto. Sto andando a una velocità paurosa, che se sbaglio qualcosa, raga, moriamo direttamente. Ai, 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 con calma. Ok, dobbiamo sempre andare dritto, va bene così. Di qua dobbiamo entrare in autostrada. Quindi iniziamo un attimino ad alzare il piede dell'acceleratore. Frena, frena zio, frena zio. Non la posso prendere derapando questa curva. Quindi cortesemente vorrei evitare... Mamma mia! Ok, siamo riusciti a prenderla senza fare danno. Senza fare danno siamo riusciti a prendere questa curva. Ok, ragazzoli, io sto entrando in autostrada, ci vediamo più là. Ok, signori miei, siamo a 150 chilometri dalla nostra meta, che non ricordo minimamente quale sia. Uuuuh, le bandiere... Eh, ecco, vedete, questo è un confine carino. Questo è un confine carino, dico, le bandiere che ti segnalano il passaggio dalla Svizzera alla Germania. Questo è un concorso di carino. Cioè, in Svizzera non abbiamo visto niente di tutto ciò. C'era stato niente un cartello che ho scritto la bandiera Svizzera. Cioè, dovevi capire che eri arrivato in Svizzera, per devi di vista quel cartello, non capivi minimamente dove cavolo eri. Se ancora in Austria o in Svizzera. L'importante è che qui, quantomeno, quattro bandiere ce l'hanno messe. Almeno uno può rendersi conto del passaggio da una nazione all'altra. Noi stiamo facendo dei sorpassi un po' azzardati. Limite di velocità 80 km orari. Noi stiamo andando a 90. Questo ma stretto sulla curva, bastardo. E mo' io ti chiudo così, così. Non ti ho nemmeno salutato, perché hai fatto una manovra molto bastarda, zio. Mi ha quasi chiuso sul guardrail. Questo lo facciamo passare. Ok, grande. Ciao zio, buone vacanze. Ancora siamo ad agosto, raga. Meno, quando io sto registrando questo video siamo ancora ad agosto. Quindi non so quando a voi lo vedrete. Però ancora forse penso che qualcuno sta andando in vacanza. Quindi, tutto buono e benedito. Andate in vacanza. Divertitevi. Ma state attenti al covid. Vicini ma lontani. Lontani ma vicini. Mi raccomando, raga. Tra l'altro voi non potete capire, raga. Io in questo momento sono in camera mia. Con l'aria condizionata spenta. Sto sudando. Che non ve ne potete nemmeno rendere conto. Però sto registrando. Mi secca a stoppare per accendere l'aria condizionata e avere un po' di refrigerio. Quindi sto continuando a sudare mentre guido il camion. È una cosa paurosa. È proprio reale. Sapete proprio quando sei dentro il camion o dentro la macchina che non funziona l'aria condizionata e te devi sudare come un porco. Ecco, proprio realismo allo stato puro, raga. Realismo pesante. Acuna matata. Tarantan. Sembra quasi così. Che succede? Che cosa? No, stavo a cantare. No, dai. Ma perché non me li segnala gli autovelox? Comunque l'avevisto, raga. Cioè, un autovelox al video toglie il libretto di torno, praticamente. Dico. Se non pigliamo un autovelox. In Germania ci hanno fotografato, signori miei. In Germania ci hanno fotografato. Hanno fotografie nostro ovunque. Lo dicevamo nello scorso video. Lo dico. Lo confermo ancora oggi. Hanno fotografie nostro ovunque. In Italia, in Austria, in Svizzera e in Germania. Fino a questo momento. Dico. Siamo dei VIP, raga. Siamo dei VIP. Se qualcuno volesse filmata la fotografia, dimmelo faccia sapere. Io sono anche disposto a fare questo. Metto in corsia di sorpasso, raga. No, non ce la faccio a superare il camion. Faccio superare prima lui. Riesce a superarmi prima che io mi stampo contro il posteriore del camion? Riesce a superarmi, zio? Supera. Io lo supero al volo. Guarda, guarda, guarda. Che manovra la Fast and Furious. Mamma mia. A te ti saluto. Ciao, zio. Ma che clacson ci abbiamo, raga? Ma che cos'è? Ma che è una pianola? Sembra che sto suonando la pianola. Va bene. Allora. Siamo a 58 km dalla nostra meta, signori miei. Questo si sta levando. Lui si è buttato direttamente a destra. C'ha paura completamente di noi. Quindi si è proprio levato lui dalla traiettoria. Bravo, zio. Mi piace. Ti metti un saluto dalla nostra tastiera. Sembra, 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 sai, come si chiamano quelli che hanno, gli organi, quelli che hanno in chiesa. Quando devono suonare l'organo in chiesa, ecco. Alleluia, alleluia, alleluia. Va bene, basta così. Torniamo a sede, raga. Siamo a 44 km dall'arrivo. Riusciremo a portarlo sano e salvo, questo cisternone alla meta. Raga, raga, sorpasso di quelli azzardati. Sorpasso di quelli azzardati. Aiai, 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 aiai. Oh, c'è una Y, c'è una Panda, c'è una Giulietta. Mamma mia, che macchine graziose che c'ha quello camion di lì. Noi abbiamo sorpassato la destra. Lo salutiamo così tanto per salutarlo. Abbiamo fatto un sorpasso alla destra che non si fa minimamente, però noi siamo così. Siamo all'avventura, non ci ferma nessuna, noi, raga. Non ci ferma nessuno. Tra nella polizia. Quella ci può fermare, ci può fare la multa, ci può fare qualsiasi cosa. Poi non ci ferma nessuno, dettagli, non ci ferma nessuno. Altro sorpasso che non si fa, raga, da destra. Questi sorpassi non si fanno, signori miei. Mi raccomando, non copiate il maullo alla guida perché vi ristrappano la patente. Non è che ve la ritirano, ve la strappano proprio. Siamo a Sturtgard o qualcosa del genere. Chi conosce, che nessuno si offenda della mia pronuncia, raga. Ma siamo a Sturtgard. Oh, esplorata, appunto, visto? Abbiamo messo il piedino destro. Eh, barca. Non sopporto gli autovelox, signori miei. Forse si è capito. Allora, noi dobbiamo andare dritto. Sì, siamo arrivati praticamente. Dove sta il... dove dobbiamo consegnare sta cosa? Dritto qua a sinistra. Sì. Facciamo una curva così sportiva. Entriamo direttamente nel capannone. Ok. Speriamo che il parcheggio sia pure facile, così. Eh, fermati! Premiamo invio. Mi dai un parcheggio facile, zio? Eh, dove lo devo mettere? Ok. Quindi gira tutto, gira tutto, gira tutto, gira tutto, gira tutto, gira tutto, senza prenderti il cancello davanti. Ok. Non sembrerebbe difficile, non sembrerebbe difficile. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. È facile, è facile. Dritto per dritto, dritto per dritto. Dai, dai, è andata bene, è andata bene, raga. Diventa verde. Ok. Mettiamo T. Si scarica il rimorchio. Guardate che carino. E anche questo viaggio è andato a buon fine, raga. Ottimo lavoro. Eh, abbiamo preso due auto-velox, appunto, per il danneggiamento. Quale danneggiamento? Non ricordo di aver che abbiamo portato qualcosa, raga. Ci hanno elevato 200 euro per il danneggiamento di che cosa? Boh, non lo so. Comunque, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo a continuare. Perfetto, ragazzi, altra meta raggiunta. Continuiamo piano piano la nostra salita verso il nord Europa. E per questo video ci fermiamo qua. Io vi ringrazio di aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga. Ciao. Ciao. Ciao.